Con Giovanni Spano, delegato del PISDATS, oggi tutti i partiti, anche il vostro, a dire, giù le mani dall'ospedale marino. Assolutamente, nel senso che il PISDATS è stato uno delle forze promotrici, ma di una battaglia che non ha colore politico, una battaglia dell'intero territorio algherese. Siamo felicissimi che sia stato accolto da un numero di forze che solitamente non si siede nello stesso tavolo, o che non ha modo di riunirsi se non in situazioni di interesse come queste. Il livello della sanità algherese non deve essere assolutamente diminuito in ogni suo servizio, deve essere assolutamente implementato quello che è il potenziamento dei servizi del nord-ovest della Sardegna, che costituisce tra l'altro necessariamente la valvola di sfogo anche della pressione dei servizi sanitari del polo di secondo livello sassarese. Il delegato naturale per Alghero per portare le istanze in regione e il sindaco, cosa gli chiedete? Come abbiamo chiesto già col comunicato e in altre sedi, il sindaco è il cittadino che rappresenta tutti gli algheresi. Abbiamo chiesto e chiediamo a gran forza che sostenga il polo ospedaliero del Marino, in quanto si potrà soltanto attraverso il salvataggio di questo ospedale tenere il livello di servizi attualmente esistente. Il primo cittadino è chiamato a questo compito come difensore di tutti i cittadini e difensore di un territorio che oltre la città di Alghero comprende numerosi paesi che assorbono nel polo ospedaliero algherese il loro bacino di utenze. E chi meglio di un sindaco che è vostra espressione diretta? Assolutamente, noi ci congratuliamo sempre col sindaco Conoci, qualora siamo in disaccordo o siamo su basi programmatiche, il sindaco Conoci ha il dovere in questo momento, oltre che sardista, ma come primo cittadino degli algheresi di portare questa battaglia in regione e di non permettere assolutamente che logiche lontane, cagliaritane, possano demansionare quello che è un centro di eccellenza del territorio algheresi. Grazie.